Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Non è una bella campagna elettorale, soprattutto questa campagna elettorale, oltre che essere corta, capitata all'improvviso, inutile adesso ricostruire quello che è successo, vede irrompere temi drammatici, quello del caro energia. Del resto, si possono citare le parole dei grandi leader, è finito il tempo dell'abbondanza. I golden age di cui la mia generazione ha beneficiato sono le nostre spalle. Quello che a me spiace è che arriviamo a questo appuntamento così drammatico impreparati. Io dico che forse potevamo immaginare meglio quello che sarebbe successo. Cioè, mi spiego, c'è stata una narrazione troppo ottimistica per quanto riguarda le conseguenze della guerra d'aggressione della Russia. Cioè noi abbiamo immaginato di fare tanto male alla Russia e di cavarcela. Non è andata esattamente così. Quindi noi corriamo il rischio di avere un colpo molto duro per quanto riguarda l'economia. Da una parte i dati della mia associazione lo dimostrano, la cassa integrazione straordinaria in un settore come quello della trasformazione dei metalli al più 900% nei primi sette mesi di quest'anno. Tanto per citare un dato. E in secondo luogo saranno colpite le famiglie, quindi i redditi da lavoro, autonomo e dipendente e le pensioni. Se non si interviene subito su questo punto, noi veramente corriamo il rischio di andare incontro ad un disastro sociale nel prossimo ottimo.